Un saluto dalla Tg della Mobilità. Commemorazione dei defunti fino a martedì 2 novembre sarà intensificato il servizio di autobus per i cimiteri cittadini di Flaminio, Laurentino, San Vittorino, Santa Maria di Galeria e Ostia Antica. Sulle linee della memoria, quindi più corse tutti i giorni a partire da domani, mercoledì 20 ottobre e sino a martedì 2 novembre. Ad essere interessate dalla piano di potenziamento non sono soltanto le linee contrassegnate dalla lettera C ma anche le ordinarie 024 e 042.